L'appalto per i lavori di manutenzione, in particolare del rifacimento del manto stradale di alcuni tratti di autostrada del Tronco Cassino, che interessa i territori di Lazio, Campania e Puglia, al centro dell'inchiesta della Procura di Benevento che ha portato all'arresto di quattro persone, dodici gli indagati in totale per le ipotesi di reato contestate a vario titolo di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti e demissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in ordine alla giudicazione di una procedura aperta indetta ad autostrade, avente un importo di oltre 75 milioni di euro. Una tangente pagata secondo l'ipotesi dell'accusa per la giudicazione della gara aperta. Si agiva sulle anomalie, sulle anomalie che venivano riscontrate artatamente dalla commissione dei tecnici di Aspi sull'offerta del consorzio napoletano che era il risultato aggiudicatario. Gli interventi dei tecnici di Aspi avvenivano dietro pressione degli indagati. Il pagamento della tangente era pattuito in 360 mila euro che sarebbero stati corrisposti però in varie tranche. La prima tranche è stata effettivamente corrisposta a mezzo bonifico bancario ed era dissimulata sostanzialmente dal pagamento di una consulenza. Confindustria Benevento in una nota esprime massima fiducia nell'operato della magistratura e vicinanza al collega imprenditore Fulvio Rillo, in attesa che i fatti vengano accertati e chiariti e che le indagini facciano il loro corso. Confindustria dunque emita la prudenza onde evitare i processi fuori dalle aule deputate.